la strategia di investimento buy and hold è morta questa strategia è stata per tantissimi anni una delle più profittevoli e più utilizzate dagli investitori ma ad oggi è ancora così funziona ancora beh lo scenario economico è veramente cambiato quindi vediamo insieme se ancora senso investire tramite questa strategia ma tutto questo dopo la sigla via ragazzi ok eccoci nuovo ragazzi ma prima di iniziare lasciatemi presentare al volo per chi ancora non mi conoscesse mi chiamo leonardo e su questo canale parliamo di tantissimi temi relativi al mondo della finanza personale e agli investimenti quindi se questi temi interessano anche te dai non perdere altro tempo iscriviti al canale e attiva la campanellina e soprattutto da un'occhiata anche i miei social seguimi qui sotto su tutti i social che ti lascio in descrizione bene ma a questo punto direi di non perderci in altre chiacchiere e partiamo subito con il video che sarà composto da due principali parti nella prima parleremo di che cos'è quindi andremo a vedere proprio che cos'è nella pratica come funziona questa strategia buy and hold per chi ancora non la conoscesse e nella seconda parte invece andremo a vedere se ancora ad oggi ha senso investirci e utilizzarla ok partiamo subito con la prima parte e capiamo che cos'è la strategia buy and hold o anche definita in italiano come compra e tieni o anche position training nel gergo finanziario questa strategia è veramente una delle più semplici che possiamo trovare là fuori nei mercati finanziari da utilizzare e in effetti è composto soltanto di due principali step il primo step è composto da una prima parte dove andremo analizzare a fare analisi e ricerche sui migliori titoli in circolazione quindi quali sono le migliori azioni che c'è là fuori in questo momento storico i migliori asset class i migliori strumenti da dover utilizzare quindi in sostanza quelli che sono i migliori titoli di valore per noi fatto ciò la strategia ci richiede di andare ad acquistare questi titoli analizzati quindi niente di più banale niente di più semplice banalmente andremo nei mercati finanziari e acquisteremo i titoli ovviamente secondo quella che è la nostra strategia di investimento quindi secondo la nostra tolleranza al rischio e secondo la nostra tempistica di investimento che nella strategia buy and hold deve essere comunque una strategia a lungo termine quindi da dieci anni in su alla base di questa strategia buy and hold c'è sicuramente anche quella di creare riuscire a creare un portafoglio il più possibile diversificato per asset class che soprattutto riesca a mantenere costante il rendimento anche in periodi più complessi di mercato quindi dovremo riuscire a creare un portafoglio ad hoc per tutte le stagioni sia in fase di crescita economica che di deflazione che di inflazione che di decrescita e così via a tal proposito se non conosci quale potrebbe essere un portafoglio ad hoc da sfruttare per questa strategia beh ho creato una vera e propria playlist che ti lascio qui sopra dove ho analizzato i principali portafogli finanziari dei migliori investitori al mondo cosa aspetti dacci un'occhiata e poi torna immediatamente qui bene ma a questo punto passiamo al secondo elemento di questa strategia buy and hold che beh come dice il nome è anche la parte più complicata cioè quello del hold quindi di tenere i titoli nel lungo periodo voi mi direte sicuramente Leonardo ma cosa c'è di così complesso beh ti assicuro che questa è la parte più dura perché dovremmo riuscire ad essere fedeli alla nostra strategia di investimento buy and hold e quindi non farci prendere dalla foga o dalle emozioni appunto perché vediamo un mercato molto volatile vediamo dei forti ribassi un 20 un 30 un 40 per cento beh dobbiamo stare calmi tenere duro e riuscire a mantenere questa strategia nel lungo termine ok ma a questo punto del video la domanda che ci sorge spontanea è ma effettivamente la buy and hold strategy è veramente efficace e ha portato risultati efficaci nel tempo per rispondere a questa domanda ci viene in aiuto niente popò di mento di benjamin graham che è stato uno dei più grandi investitori tutti i tempi e anche mentore del noto warren buffett in effetti benjamin graham nel suo libro più famoso intelligent investor ha proprio parlato della strategia buy and hold dicendo come effettivamente questa strategia è utile e soprattutto la più adeguata per tantissimi investitori per la maggior parte degli investitori medi proprio perché ci tiene al di fuori di tante pratiche tante tecniche piuttosto complesse che magari andiamo a utilizzare come ad esempio può essere il market timing quindi cercare effettivamente il miglior momento per entrare nel mercato piuttosto che lo stop picking e se ancora non sono stato abbastanza convincente guardate questo grafico che preso da una vera e propria analisi fatta da just etf dove vediamo la differenza di performance tra le due strategie di investimento quindi una strategia passiva fatta tramite appunto l'investimento in un etf tramite la strategia buy and hold e il secondo tipo di investimento fatto appunto tramite dei fondi di investimento attivi che utilizzano appunto queste strategie multiple che beh come vediamo non è poi così efficace abbiamo addirittura in un lasso di tempo di 15 anni di investimento a circa un 5 per cento di ritorno con un capitale iniziale di 50 mila euro abbia una differenza addirittura di rendimento di 20 mila euro e ragazzi che cosa c'è ad aggiungere ok ma a questo punto avendo capito che cos'è la strategia buy and hold e soprattutto la sua profittabilità non ci resta nient'altro che passare alla seconda parte del video e capire questa strategia è ancora profittevole nel tempo per rispondere a questa domanda dobbiamo passarci su due principali elementi considerazioni il primo è sicuramente quello che riguarda la macroeconomia sì perché se ci rendiamo conto ragazzi negli ultimi anni ci sono stati veramente tanti fattori che hanno cambiato l'economia moderna la macroeconomia degli giorni d'oggi è molto diversa rispetto a quella del passato e tutti questi elementi sicuramente ci testimoniano come c'è una forte fortissima criticità a livello macroeconomico e questo comporta anche una volatilità molto alta nei mercati e molto probabilmente lo sarà anche nei prossimi anni questa forte volatilità sicuramente non agevola la strategia buy and hold nelle sue performance questo è ovvio la seconda criticità il secondo elemento che dobbiamo analizzare per rispondere a questa domanda riguarda le banche centrali e i suoi tassi di interessi sì perché ragazzi possiamo starcela raccontare come vogliamo ma se pensiamo agli ultimi anni e a tutto quello che ha fatto e hanno fatto le banche centrali soprattutto la bce europea appunto piuttosto che la federal reserve americana beh hanno continuamente inserito e data nuova liquidità nei mercati per far sì che appunto l'economia crescesse anche in momenti piuttosto complessi come quelli del covid 19 di qualche anno fa o pensiamo anche a titolo esempio al quantitativism di mario draghi che effettivamente ha salvato i mercati europei dal declino effettivamente semplicemente aprendo del tutto i rubinetti della liquidità quindi sì ragazzi è inutile nasconderci la liquidità che è stata immessa nei mercati in questi anni è sicuramente servita e aiutato a aumentare gli investimenti sui mercati e quindi far crescere anche le stesse borse americane europee e mondiale ovviamente ma la questione a questo punto è effettivamente le banche centrali possono continuare con questa strategia per quanto possono andare avanti a inondare effettivamente i mercati di liquidità quante cartucce hanno ancora da sparare beh la risposta ragazzi è che beh il gioco è quasi finito in effetti le politiche monetarie espansive che le banche centrali hanno applicato fino ad ora si rivolteranno e diventeranno delle vere e proprie politiche restrittive pensiamo soltanto all'inflazione beh l'inflazione veramente esplosa e sarà così anche nei prossimi anni sarà piuttosto alta anche negli anni a venire e quindi l'unica arma che le banche centrali hanno per riuscire a mantenere e a cercare di ridurre questa inflazione per noi ragazzi per il nostro potere d'acquisto è quello di aumentare i tassi di interesse quindi beh sicuramente riducendo la liquidità sui mercati e quindi anche la strategia buy and hold è morta vediamola nelle conclusioni ok ragazzi nelle mie personalissime conclusioni sono due gli elementi che voglio portare alla vostra attenzione due elementi imprescindibili da un lato abbiamo come la strategia buy and hold effettivamente non può essere considerata nel breve periodo perché è una strategia che dà i suoi frutti soltanto nel lungo lunghissimo periodo e quindi inutile analizzarla nel breve periodo il secondo elemento è sicuramente quello della forte volatilità che avremo nei mercati perché sembra scontato come oramai con le moderne dinamiche finanziarie beh la volatilità sarà sempre più alta nei mercati finanziari e questo sicuramente non agevola la strategia buy and hold dunque leonardo che cosa bisogna fare beh come in ogni occasione e circostanza complicata è il momento di rimboccarsi le maniche e di ricominciare a studiare di ricominciare a mettersi in gioco e di scoprire alternative soluzioni strategie alternative e per questo posso sicuramente darti una mano anch'io con il prossimo video che ho creato proprio sulle strategie di investimento alternative dacci un'occhiata le trovo lascio alla fine del video noi siamo arrivati alla fine del video quindi come ogni volta ti saluto e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi alla prossima